Buongiorno e buona domenica. È la domenica della gioia all'interno del cammino della cuaresima. Il colore viola diventa rosato e facciamo quasi una pausa nel percorso del sacrificio e della penitenza per allungare lo sguardo verso la luce radiante della Pasqua che ci attende, promessa che si compie in Gesù, che ci dice il Vangelo di oggi, capitolo 3 di Giovanni, versetti dal 14 al 21, è stato mandato figlio del padre per la salvezza del mondo e il motivo è che il padre ha un amore immenso per il mondo, ha così tanto amato il mondo da dare il suo figlio ogni genito per la sua salvezza e questa è la luce dirompente che arriva a toccare i cuori, le relazioni, i sistemi del mondo e di fronte a questa luce che ha la capacità di bruciare con il suo calore ogni male, ogni motivo di divisione, ogni motivo di oppressione e ingiustizia. Ecco di fronte a questa luce il Vangelo oggi ci interpella e ci chiede di scegliere da che parte stare. Può esserci il sole e noi nasconderci sotto l'ombra di un piccolo ombrellone o di qualsiasi altra cosa che eviti di essere toccati dai raggi del sole. Anche nella vita spirituale possiamo a volte nasconderci dall'amore di Gesù e farlo anche con piccole cose, con piccoli sotterfugio, nascondimenti, tutto però all'esito di non lasciarsi raggiungere da quello che è l'amore di cui abbiamo bisogno, perché in fondo la luce è importante perché ha il desiderio di mettere in evidenza i colori e le forme della nostra vita affinché possiamo goderne nella gioia appunto in tutta la dignità che ci costituisce. La luce infatti non viene per mettere in mostra se stessa ma per evidenziare la bellezza di tutte le cose che vi sono. Così è Dio, così è il Padre, così è la luce del figlio mandato nel mondo, non perché tutti applaudino questo Dio che ci ama, ma perché ciascuno scopra la meraviglia di quanto gli circonda e di quanto ha dentro di sé e nella propria vita. Noi siamo illuminati dal Signore per vedere quanto siamo belli ai Suoi occhi ed è per questo che la nostra scelta determina in fondo anche lo stato d'animo con cui attraversiamo l'esistenza in questa terra, perché a vedere quanto si è belli gli uni e gli altri, gli uni per gli altri, si può davvero gioire e ringraziare questo stesso Dio che ci ha dato la luce. Nel momento in cui pensiamo invece di non essere degni, di essere anche brutti nel nostro modo di essere e di vivere, ecco allora che lo sguardo si abbassa e anziché gioire ci chiudiamo nell'amarezza e nella tristezza. Ci doni questa quaresima, l'ennesima opportunità per scegliere di stare sotto i raggi della luce, di lasciarci illuminare e rendere quello che siamo veramente una meravigliosa creatura trasformata in figlio e in figlia dentro la stessa vita che l'unigenito andato dal Padre ci ha donato lasciandosi inalzare per amore sulla croce della salvezza. Buona domenica.